Dai Guaderni di Maria Valtorta, 29 marzo 1944, seconda parte. Dice Gesù, la vicenda di Giustina di Antiochia e di Cipriano è una delle più belle in favore della mia croce. Essa, il patibolo irrolato dal mio sangue, ha nel corso dei secoli operato infiniti miracoli. E ancora ne opererebbe se voi in essa aveste fede. Ma il miracolo della conversione di Cipriano, anima in potere di Satana che diventa un martire di Gesù, è uno dei più potenti e più belli. Cosa vedete, uomini? Una fanciulla sola con una piccola croce fra le mani e una leggera croce scalfita al muro. Una fanciulla con un cuore veramente convinto del potere della croce che in quella si rifugia per vincere. Di fronte a lei è un uomo che il mercimonio con Satana fa ricco di tutti i vizi capitali. In lui lussuria, ira, menzogna, cecità spirituale e errore. In lui sacrilegio e connubio con le forze d'inferno. E in suo aiuto il Signore dell'inferno con tutte le sue seduzioni. Ebbene, vince la fanciulla. Non solo, ma stretto da una forza invincibile, Satana deve confessare la verità e perdere il suo seguance. Non solo vince per sé la Vergine Fedele, ma vince per la sua città liberando Antiochia dal maleficio che si sparge come pestilenza uccidendo i cittadini. E vince per Cipriano facendo di lui servo di Satana, un servo di Cristo. Il demonio, la malattia, l'uomo, vinti da una mano di fanciulla, sorreggente la croce. Voi poco la conoscete questa mia martire, ma dovreste raffigurarla ritta sulla pietra che chiude l'inferno, sotto la quale ringhia Satana, vinto e prigioniero, con la piccola mano armata della croce. E ricordarvela così ed imitarla così, poiché Satana ora più che mai scorre sulla terra e scatena le sue forze di male per farvi perire, non c'è che la croce che lo possa vincere. Ricordate che esso stesso ha confessato, il Dio crocifisso è più potente di tutto l'inferno, sempre mi vincerà. Chi crede in Lui è salvo da ogni insidia. Fede, fede figli miei, è una questione vitale per voi. O credete, e avrete bene, o non credete e sempre più conoscerete il male. O voi che credete, usate di questo segno con venerazione, o voi che siete dubbiosi e che col dubbio l'avete cancellato dal vostro spirito come sotto dei succhi corrosivi, e il dubbio è infatti corrosivo o cantonacido, tornate a scolpire nel vostro pensiero, nel vostro cuore questo segno che vi fa sicuri di protezione divina. Se ora la croce è velata a simbolo della mia morte, non sia mai velata nel vostro cuore, come su un altare essa in esso splenda. E vi sia luce che vi guida al porto, vi sia il vessillo su cui affisserete lo sguardo beato, nell'ultimo giorno, quando per quel segno io separerò le pecore dai becchi e spingerò a costoro nelle tenebre eterne, portando me con la luce i miei benedetti. Dice poi Gesù a me, tu la potenza della croce l'hai provata, tu non hai dubbi sulla vericità della visione, perché tu pure hai visto fuggire Satana sotto alla tua mano alzante la mia croce. Ma quanto pochi sono quelli che credono così, e non credendo non ricorrono neppure a questo segno benedetto. Anche questa visione è da includersi nei Vangeli della fede. Non è Vangelo, ma è fede. Ed è ancora Vangelo perché io ho detto a chi crederà in me darò il potere di calcare serpi e scorpioni, è la potenza del nemico, e nulla gli farà del male. La tua fede aumenta ad ogni palpito del tuo cuore, e se questo stanco rallenta i suoi palpiti, non rallenti il tuo credere. Più l'ora della riunione con Dio è prossima, e più occorre aumentare la fede, perché nell'ora della morte Satana, che mai non si è stancato di turbarvi con i suoi reaggiri, è astuto, feroce, lusingatore, con sorrisi, con canti, con rugidi, con sibili, con carezze e unghiate, ha cercato di piegarvi, e aumenta le sue operazioni per strapparvi al cielo. E' proprio questa l'ora di abbracciarsi alla croce, perché le onde dell'ultima satanica bufera non vi abbiano a sommergere. Dopo viene la pace eterna. Animo Maria, la croce sia la tua forza, ora e nell'ora della morte. La croce della morte, l'ultima croce dell'uomo, abbia due braccia, una sia la mia croce e l'altra il nome di Maria. Allora la morte avviene nella pace dei liberati, anche nella vicinanza di Satana, perché esso, il maledetto, non sopporta la croce, è il nome della madre mia. Si faccia sapere questo a molti, poiché tutti avete a morire, e tutti ha bisogno di questo insegnamento, per uscire vittoriosi dall'estrema insidia di chi vi odia infinitamente. Bene, ricorderemo la volta scorsa quello che era successo, che questa bambina sfida Cipriano, sotto mezzo a fare riti strani, riti magici, cabalistici, a cui era andata in promessa sposa, con una piccola grosetta. E con questa piccola grosetta ottiene dapprima la conversione di Cipriano, e poi anche il fatto che lui divenne vescovo, e con lei stesso martire. Qui Gesù fa un bellissimo commento, ecco, noi non sempre magari abbiamo una croce da brandire, ma io mi permetterei di suggerire sulla scorta di questo brano, dove Gesù ci ricorda l'importanza della croce, specialmente per mettere in fuga il nemico, di segnarsi con la croce spesso, frequentemente. sarebbe una cosa graziosa e carina, ecco, raggiungere gli anni di Cristo ogni giorno fatti con i segni di croce, 33 segni di croce, la distribuire nell'arco della giornata, certamente, quindi non esattamente tutti insieme. Quello possiamo farlo tutti, non sempre abbiamo un crocifisso, e certamente quello si può fare in privato, non è che si può fare in pubblico a brandeggiare un crocifisso, ma non siamo di croce, possiamo farlo sempre in quel momento. Ecco, Gesù afferma delle frasi che se fossero state dette l'altro ieri non ci credono, desterebbero in un grande stupore, poiché Satana ora più che mai scorre sulla terra e scatena le sue forze di male per farvi perire, beh, insomma, a cento anni, no, cento anni sono un po' troppi, insomma, a ottant'anni di distanza possiamo dire che sta bello scatenato ancora il diavolo, eh? Però, anche in queste situazioni, Gesù ci ricorda, il Dio crocifisso è più potente di tutto l'inferno, e, ce lo ricorda Gesù, ma, prendendo in presto la corona del diavolo, sempre mi vincerà chi crede in Lui è salvo da ogni insidia. Ecco perché Gesù fa l'esortazione, fede, 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 figli miei. La grande questione della fede, la questione vitale, dice Gesù per noi. O credete, avrete bene, o non crederete, e sempre più conoscerete il male. Gesù parla delle croci velate, ora se la croce è verata a singolo della mia morte, non si è mai verata nel vostro cuore, sicuramente in quel periodo, dato la data di questo scritto che è il 29 marzo, si era già entrati nel cosiddetto tempo di passione, che è una cosa distinta, molto ben distinta nell'antica liturgia dalla Quaresima, dalla quinta domenica di Quaresima, quindi le ultime due settimane della Quaresima, si chiamavano il tempo di passione. e da dopo la messa mattutina del sabato precedente, la quinta domenica di passione, c'era la velazione obbligatoria, oggi è diventata facoltativa, al tempo era obbligatoria, di tutte le croci e di tutte le immagini sacre. Gesù spiega molto bene il senso di questo segno, la croce è velata simbolo della mia morte. Però questa velazione non sia mai che ci sia nel vostro cuore, nel nostro cuore la croce non dobbiamo velarla mai, per nessun motivo. Il brano chiude con un riferimento alla vicenda personale di Maria Valtorta, donna crocifissa senz'altro, quindi Gesù ne ricorda questo suo intimo unione con la croce e poi fa qualche considerazione conclusiva su quello che dicevano nell'Ave Maria, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. L'ora della morte è nel momento in cui il diavolo viene a fare il matto per cercare di prendersi un'anima ed è anche il momento per stringersi alla croce, sappiamo che nell'amministrare il sacramento di emozione il sacerdote porta sempre con sé un crucifisso, non soltanto per apparecchiare insomma quella piccola tarino su cui si poggia il santissimo che viene dato come viatico ma anche perché il crocifisso può essere dal sacerdote presentato a un infermo specialmente se diventato molto più in grado di poter rispondere perché gli dia un bacio dare un bacio al crocifisso anche per noi che non siamo moribondi un'opera indulgenziata come la Chiesa spiega nell'Inchilidion delle indulgenze quindi è una cosa molto molto importante Gesù vuole il maledetto che l'espressione il maledetto non sopporta la mia croce e il nome della madre mia sia fatta conoscere a molti anche qui nei limiti di quello che possiamo facciamoci apostoli di queste cose sapendo che siamo responsabili gli uni degli altri e che anche se per la nostra fedeltà a Vangelo dovessimo perdere qualche amicizia o subire qualche persecuzione pazienza perché tanto ne vale davvero e realmente la pena